Torna a Lanciano la Fiera Nazionale dell'Agricoltura. Dopo lo stop di un anno, a causa della pandemia, si è finalmente giunti alla 59esima edizione. E torniamo con un'edizione speciale, chiamiamo così, della ripartenza a settembre, che è una data un po' particolare, che non era quella tradizionale di aprile, quindi diciamo che portiamo avanti questa edizione come un'edizione speciale. Come sempre da tutta Italia, 150-160 espositori che verranno un po' da tutte le regioni d'Italia, forse anche qualche presenza estera, che quest'anno però purtroppo è stata un po' penalizzata dagli eventi del Covid, che in certi casi non permette determinati trasporti. Il 3, 4 e 5 settembre ci saranno oltre 150 espositori da tutta Italia e la Fiera della Ripartenza, ha commentato il Presidente. E infatti questo è il primo evento di questo tipo, a livello nazionale, che si svolgerà in presenza. E come da DPCM, per accedere sarà necessario il Green Pass. Il Green Pass è assolutamente obbligatorio, lo controlleremo all'ingresso, quindi invitiamo tutti i probabili visitatori a munirsi di Green Pass per l'accesso e dovremo purtroppo impedire l'accesso a chi non lo ha. In più siamo stati anche obbligati, in questo caso, a definire un numero massimo di persone presenti all'interno della manifestazione ed è previsto che ci siano non più di 3.000 visitatori contemporaneamente presenti all'interno dell'area espositiva.